Succedeva sempre che uno a un certo punto alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Ci stavamo più di mille in quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi. Eppure ce n'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, passeggiando sul ponte, magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava gli occhi verso il mare e la vedeva. Allora rimaneva lì inchiodato, ripartiva il cuore a mille. E sempre, tutte le maledette volte, lo giuro, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava. America! Poi rimaneva lì immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, sì, ma con la faccia di uno che l'aveva fatta lui l'America. Quelli che per primi vedono l'America hanno già quell'istante stampato nella verità e quando erano bambini potevi guardarli negli occhi. E se guardavi bene ce la vedevi l'America, già lì pronta a scattare, a scivolare giù per il sangue e i nervi e che ne so io, fino al cervello e da lì fino alla lingua, fin dentro a quel grido. America!